dovrei assumere una bella microfonista per il 2019 3, 2, 1 ok ragazzi eccoci con un nuovo video beh come avete visto dal titolo questo è l'ultimo video del 2018 non pensavo di realizzare un altro video ma come avete già visto dal titolo è arrivato un pacchettino e ho deciso quindi di accendere la telecamera visto che questi due o tre giorni di riposo li sto passando qui nel mio piccolo laboratorietto a giocare un po' con i vari prodottini che ho qui tra CNC e Arduino vari direi quindi di fare insieme a voi questo rapido unboxing così vi racconto un attimino di queste due cavolatine che mi sono arrivate in particolar modo c'è una piccola scatolina da collegare alla stampante 3D che secondo me se funziona è una gran figata si potrà dire figata non lo so l'ho già detto due volte quindi direi che o mi blocca nel video oppure si poteva dire ma prima di tutto volevo farvi vedere questa roba qua siamo arrivati a 6.645 iscritti 6.645 amici e quindi 6.645 volte grazie già perché grazie a voi che io sono qui davanti ad una telecamera a registrare questo video altrimenti non avrebbe senso infatti come ben sapete sono qui voglio crescere insieme a voi raccontandovi delle mie passioni raccontandovi degli oggetti degli attrezzi che provo dei miei progetti delle mie idee da condividere insieme a voi quindi anche se la crescita del canale non è rapida beh poco importa io come ben sapete sono qui per parlare insieme a voi e raccontarvi le mie passioni tant'è che se andate a sbirciare nel mio canale trovate anche i video inerenti il mondo degli acquari una delle mie vecchie passioni beh direi subito a questo punto di tagliare a corto e andare a fare questo unboxing insieme anzi prima dell'unboxing vado a raccontarvi di questi oggettini che ho preso su Banggood naturalmente come ben sapete vi lascio sempre il link qui sotto in descrizione andiamo a vedere rapidamente di questi piccoli oggettini sono alcune parti di ricambio per la stampante 3D qui c'è il blocchetto della parte riscaldante la vite quella che permette di far scorrere il filo all'interno ed ancora un paio di ugelli nozzle che dir si voglia questo è un piccolo accessorio secondo me utile dal giorno che si decide di far entrare una stampante 3D all'interno del proprio laboratorio ancora qualche piccola cover in silicone che serve appunto a proteggere più che proteggere secondo me è pura estetica vi lascio il link qui sotto in descrizione così decidete insieme a me se sono realmente utili per proteggere sono solo per estetica per riconoscere appunto il nozzle che è stato montato sopra ma secondo me è pura estetica ed ancora ci sono delle pinzette insieme a degli aghi che hanno l'utilità appunto di andare a pulire i vari nozzle nel momento in cui si dovessero intasare o comunque nel momento in cui dobbiamo andare a fare la manutenzione ancora qualche piccolo pad con dell'alcol isopropilico e soprattutto queste due pinzette che io reputo la parte più comoda anche perché queste fatte dai cinesi sono davvero uno spettacolo beh è inutile che io venga qui a raccontarvi che cos'è Banggood lo sapete bene è un grosso store cinese dove si possono fare ottimi acquisti se si ha la consapevolezza di sapere che cosa si sta acquistando infatti io altro che consapevolezza ho preso questa roba qui perché nelle foto sembrava uno spettacolo c'era la possibilità di inserire i cacciaviti e in realtà beh ci sono rimasto un pochettino male sono rimasto un po' deluso nel senso che sicuramente è in silicone è anche molto comodo perché aderisce bene nel senso che se appoggiamo Arduino piuttosto che altre schede elettroniche o qualsiasi altra roba evitiamo di creare corti lavorando su tavoli in metallo ma soprattutto il PCB, la scheda, il circuito stampato resta bene fisso quindi sono rimasto deluso perché dalle immagini facevano vedere uno spessore molto più alto e una dimensione maggiore ma in realtà dalle immagini infatti sono andato a controllare le dimensioni perché avevo paura di mi fosse arrivato qualcosa di errato in realtà le dimensioni sono proprio queste dimensioni fogli A4 io vi lascio il link qui sotto in descrizione ripeto io sono rimasto deluso ma perché mi aspettavo qualcosa di diverso dalle immagini ma il suo lavoro secondo me lo farà molto bene io ho provato ripeto rapidamente appoggiando un eccolo qua un piccolo node MCU non so se voi riuscite a vederlo ma resta lì non si sposta non va da nessuna parte quindi assolutamente comodo spostiamo questo e togliamo questa roba qui e arriviamo a questa parte qua ovvero l'adesivo con tra l'altro il brand brandizzato Ender 3 anche se la mia stampante è una Elego ma poco importa ho ritagliato un piccolo pannello in alluminio spero riuscite a vederlo che avevo di recupero andrò adesso ad attaccare questa parte qui e così mi sono creato un altro pianetto che posso andare ad utilizzare con la stampante 3D per chi non l'avesse capito questo video è improntato particolarmente sul mondo della stampa 3D e anche la roba che c'è qui dentro secondo me lo è ma a questo punto vado ad aprire eccolo qua il taglierino e andiamo a fare insieme questo unboxing accorciamolo non vorrei mai tagliare quello che c'è dentro anche se non penso che si possa rovinare e andiamo a vedere eccola qua la scatolina è questa qui ma l'apriamo poi dopo qui dentro ci dovrebbero essere due bobine di filamento che voglio provare della G-Tech penso la pronuncia sia questa vediamo se prima di tutto sono arrivate con le buste completamente sotto vuoto e direi di sì rosso spettacolo speriamo poi che stampandolo resti rosso e non diventi un rosso più scuro è bruciato ma questo lo scopriremo poi dopo ed ancora argento anche questa completamente sotto vuoto io non la voglio aprire subito anche perché mi sto organizzando per capire come proteggere al meglio dall'umidità le bobine di PLA se voi avete consigli fatemelo sapere nei commenti io ho in mente di creare un piccolo contenitore dove all'interno andrò a mettere dei sali e soprattutto un sensore di umidità ma se voi avete già realizzato qualcosa o avete in mente qualcosa beh fatemelo sapere nei commenti io a questo punto direi che è il caso di andare ad aprire l'ultima scatolina che è quella che aspettavo con maggiore particolarità wow è piccolissima pensavo fosse molto più grande dalle immagini anche questa sembrava molto più grande questa roba qui dovrebbe permettermi di controllare tramite un'applicazione la stampante 3D ma a questo punto direi che fermo un attimo la registrazione vado ad accenderla vado a metterla in funzione e ci vediamo tra poco per farci i saluti eccomi qua ho cambiato inquadratura perché ho fatto qualche prova e sono già riuscito a controllare il tutto tramite il mio smartphone devo ancora fare il test da remoto nel senso che in questo momento sono agganciato alla stessa linea wifi dove è agganciata la scatoletta anche se comunque passo tramite un server questo della G-Tech penso si pronuncia così quindi dovrei poter controllare la mia stampante da qualsiasi parte del mondo questa non vuole essere una recensione di questa piccola scatolina perché voglio fare alcune prove infatti ho già trovato una cosa che non mi garba per nulla ma a breve ve la racconto prima di tutto però mi stavo dimenticando una cosa ho bisogno di voi nei commenti mi dovete far sapere secondo voi che cosa andrò a realizzare con questo materiale qui ovvero delle guide con cuscinetti lineari con delle astine io l'indizio che vi posso dare è quello che la vite senza fine non c'entra assolutamente nulla infatti andrò a sfruttare solo i due cuscinetti lineari ma fatemi sapere voi nei commenti che cosa secondo voi andrò a realizzare senza ombra di dubbio vi posso dire che non sarà una CNC né tantomeno nulla di controllato elettronicamente andrò a sfruttare solo ed esclusivamente le guide lineari detto questo torniamo a questa rapida presentazione di questa scatolina vi dicevo che ho trovato subito una pecca beh la pecca è che qui ho un elenco di possibili robe che posso stampare infatti mi basta andare a cliccare ad esempio su 3D print spero riusciate a vederlo dopodiché con tutte le sue tempistiche mi va a caricare i modelli proviamo a spostarci da un'altra parte eccolo qua mi va a caricare con tutte le sue tempistiche ripeto tutti i modelli che io posso andare direttamente a stampare dall'applicazione c'è però un però che a parte il fatto che è lentissimo ma quello per assurdo potrebbe essere dovuto alla mia linea non c'è una barra di ricerca quindi l'unica cosa che potrei fare è scorrere così all'infinito finché non trovo quello che mi interesserebbe stampare ma qua mi parla di più di 50.000 modelli valli a cercare 50.000 modelli o meglio vai a cercare quello che ti può interessare quindi direi assolutamente inutile questo elenco di prodotti che posso stampare interessante la storia dell'SD Card ed ancora del 3D Wifi infatti all'interno della scatolina spero no non riuscite a vederla quindi devo fare questo lavoro qua andare a girare la telecamera e mostrarvi la scatolina da più vicino praticamente qui di lato posso andare ad inserire l'SD Card che viene già fornita da 1 giga e nient'altro se non fosse il numeretto qui dietro che mi permette di sincronizzarla vi dicevo che quindi dall'applicazione posso andare a lavorare sulla memoria che c'è interna anche qui SD Card devo ancora cercare bene di capire come funziona la cosa interessante è che qui ho il clone di quello che è la temperatura del piatto di stampa dell'estrusore ed ancora salendo su ho tutta una serie di possibili configurazioni la cosa più interessante è che posso andare a controllare l'estrusore quindi posso ad esempio andare a fare lo zero non so se voi riuscite a vederlo o ancora posso spostare a destra e sinistra il piano e ad esempio qua guardavo che posso andare a fare ad esempio l'auto level quindi me ne vado qui e vado a fare l'auto leveling ma questo devo ancora cercare di capire come funziona direi quindi che io procedo a fare tutti i test così magari da potervi raccontare qualcosa in futuro bene io sono quindi arrivato in conclusione spero che questo rapido unboxing questa rapida presentazione e racconto di quello che io sto combinando qui nel mio piccolo laboratorio di elettronica vi sia piaciuto vi ricordo che se volete potete lasciare un like anzi direi che dovete ma soprattutto dovete seguirmi su facebook e su instagram vi lascio il link qui sotto in descrizione così saprete quello che combino qui nel mio laboratorio ogni tanto vi posto anche qualche offerta in particolar modo su facebook beh nessuno vi vieta naturalmente di andarvi a iscrivervi al mio canale e soprattutto di condividere i miei video così da far sapere ai vostri amici che esiste un altro appassionato di fai da te e non solo io a questo punto penso di essere davvero arrivato in conclusione come dico sempre bando alle ciance noi ci vediamo il prossimo anno buon 2019 come si vuol dire a te e famiglia al prossimo video ciao 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 Ciao